A maggio il primo assaggio è un detto popolare che ultimamente si sente sempre di più in voga tra i cercatori di funghi e gli appassionati della ricerca e il riferimento all'assaggio è riferito ai primi porcini della stagione primaverile che possono essere anche i famosi Boletus reticolatus o Boletus estivalis. Dove dobbiamo andare a vedere? Dobbiamo andare a cercare i boschi ad esempio di castagno, di cerro o anche di faggio più aperti e soleggiati che siano comunque anche un pochino riparati dal vento e da eventuali giornate di calore dove possono trovare anche in presenza di deboli brezze che asciugherebbero sotto bosco e temperature superiori ai 20 gradi un ambiente favorevole per riuscire a svilupparsi. Una volta che abbiamo trovato questo ambiente che solitamente è fatto da delle conchette con presenza di erbette e anche qualche foglia a terra dobbiamo osservare con attenzione giorno dopo giorno il nostro bosco perché le nascite di questa specie da un giorno all'altro possono esplodere e anche al contempo terminare per via proprio dell'umidità a volte presente nel sottobosco e delle temperature calde che si possono verificare verso la fine del quinto mese dell'anno. Qui vediamo un primo esemplare di Boletus estivalis, Boletus reticolatus e spingendoci un pochino ad osservare la fungaia scopriremo come anche per i porcini a volte la fruttificazione avviene in forma semicircolare o circolare. Osserviamo a distanza un attimino il colpo d'occhio e proviamo ad individuare quanti esemplari di Boletus estivalis si trovano di fronte ai nostri occhi. Provate a disegnare un semicerchio partendo da questi due funghi vedremo che qua ci sono altri esemplari più piccoli più giovani e proprio un letterale semicerchio si sviluppa in questo piccolo arco del sottobosco. Cominciamo a vedere gli esemplari più piccoli e giovani che si trovano nella parte leggermente meno esposta al sole proprio di questa fungaia e come notiamo anche le foglie di castagno favoriscono il mantenimento di un minimo strato umifero a terra che permette così ai nostri porcini estivi di svilupparsi. Come vediamo anche in maniera molto prossimale sul terreno vi sembrano quasi come attaccati appena appena a cresciuti e fuoriusciti per magia. Ci spostiamo un pochino alziamo lo sguardo e vediamo che tutto sotto le foglie dei nostri castagni a poco a poco si sta sviluppando una vera e propria nascita di giovani esemplari di Boletus estivalis su reticolati e anche con degli stipiti di interessanti dimensioni. Passiamo qualche passo indietro e vediamo che come si iniziano a spuntare un pochino al sole la colorazione della loro cuticola diventa più chiara. Questo perché ovviamente durante la stagione estiva maggiore irradiazione solare, maggiore evotraspirazione dell'acqua il nostro porcino estivo comincia a farsi vedere con delle tonalità un pochino più chiare. Continuiamo a seguire questa meravigliosa fungaia circolare con questo esemplare che in questo momento si prende un bel bagno di sole, probabilmente fresco e nato nell'arco di questa nottata, così come questo che fa capolino dalle foglie dei castagni. Facciamo ancora un piccolo passo indietro sempre osservando proprio questa curiosa disposizione quasi semicircolare del micelio dei nostri funghi che è una caratteristica che come sappiamo si verifica in diverse specie funghi. Qui vediamo anche un esemplare un pochino più grandicello, il nostro Boletus estivalis Oboletus reticolatus e andiamo a vedere gli esemplari più curiosi che si sono osservati in questa fungale. Che cosa accade durante la stagione primaverile o con l'arrivo del primo caldo? Con l'umidità si possono sviluppare anche dei funghi che sono in grado di parassitare o comunque intaccare anche altri funghi. È il caso di questi Boletus estivalis Oboletus reticolatus che vediamo già di grandi dimensioni che curiosamente trasudano sulla cuticola che si vede nettamente intanto il carattere della specie quindi l'areolatura reticolo ben visibile su questo lato del nostro cappello e se noi andiamo ad osservare nel dettaglio lo vedremo anche più finemente nella parte che ci sembra più liscia ma poi osserviamo anche questi essudati, questi essudati di colore ambrato scuro che sono gli effetti della parassitosi di un altro fungo sul nostro porcino estivo Boletus estivalis. Quindi vedremo adesso in questo esemplare ovviamente sono gli esemplari che sono cresciuti più vicino alla luce del sole più al caldo come notiamo della fungaia quindi l'eccesso di calore al ristagno di umidità ha favorito l'insorgere di questa parassitosi che leggermente inizia a compromettere la carne dei nostri funghi e poi il fungo parassita fa fuoriuscire queste goccioline sudate di colore ambrato giallastro dal nostro fungo. In alcune regioni della penisola i funghi con queste caratteristiche vengono chiamati funghi grassi o funghi dell'olio e vengono parimenti consumati. La parassitosi è una parassitosi da funghi del genere sepedonium che di fatto come vedete mina la superficie meniale e la trasforma in un aspetto nettamente ammuffito con queste goccioline di colore ambrato giallastro. Quando ci troviamo di fronte a un fungo con queste caratteristiche il consiglio ovviamente è sempre quello di non consumarlo poiché non tanto il fungo parassita può avere una tossicità sua diretta ma poiché le carni del nostro porcino estivo sono state di fatto già oggetto di parassitosi quindi potenzialmente rapidamente decomposte quindi potrebbero darci qualche disturbo se noi consumiamo questo fungo che come detto curiosamente in alcune regioni viene chiamato fungo grasso fungo dell'olio proprio per questa sua peculiare curiosa caratteristica di trasudare delle goccioline opalescenti ambrate. Ma torniamo ancora un attimo alla nostra fungaia per godere della meraviglia del sottobosco durante la stagione piena della primavera quando le felci iniziano a mostrarsi nel sottobosco quando in questo caso i castagni iniziano a mettere belle le foglie visibili ampi e garantire un pochino di copertura e quindi di raffrescamento al sottobosco e quando poi ovviamente ci sono le giuste precipitazioni primaveriche che negli ultimi anni sono sempre un po più incostanti o a volte anche fin troppo intenso ma che se seguite con attenzione possono anche regalarci l'emozione di scoprire nel cuore del mese di maggio dei meravigliosi ambienti con presenza in questo caso del porcino estivo voletus reticolatus estivalis in tutta la sua bellezza. Ricordiamo infine che i funghi del genere sepedonium quindi quelli che hanno parassitato i nostri porcini stivi che abbiamo visto prima si possono ugualmente trovare anche su altre specie di bolletacee.